Buongiorno a tutti e bentrovati a questa nuova sessione formativa che dedichiamo alla delibera era numero 15 del 2022 sulla qualità tecnica e contrattuale del servizio rifiuti e in particolare oggi parleremo della scelta del quadrante e della gestione dei costi della qualità nell'MTR2. Anticipo fin da adesso e poi lo ripeterò nel corso del webinar per coloro che si collegano più tardi che il termine del 31 marzo 2022 per la scelta del quadrante non è da considerarsi perentorio ma anche a seguito di una nostra richiesta da RERA questo termine potrà essere considerato allineato con quello dell'approvazione del PEF che ricordo in base al mille proro che è stato spostato in maniera strutturale al 30 aprile di ciascun anno. Chiaramente la scelta del quadrante però dovrà essere prodromica al PEF in quanto quest'ultimo dovrà contenere i costi previsionali collegati alla qualità. Quindi questo è il primo webinar successivo a quello del 22 febbraio che affronta diversi temi della qualità suddivisi per argomenti più significativi. Dalle vostre domande che avete posto la volta scorsa abbiamo infatti ennucleato una serie di temi da approfondire e da qui a giugno proporremo questi approfondimenti. Questo in vista di una riorganizzazione dei processi amministrativi e tecnici che nel corso di quest'anno dovranno essere improntati dai comuni in quanto ITC ma anche in quanto i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza al fine di arrivare al primo gennaio 2023 pronti con le nuove prescrizioni dell'autorità. Un'ultima cosa prima di passare la parola al relatore. La scelta del quadrante dovrà essere effettuata e poi caricata sulla piattaforma che Arera svilupperà e metterà a disposizione a breve sul proprio sito. Le tempistiche sono le solite, ossia la scelta insieme al PEF dovrà essere caricata entro 30 giorni dalla scadenza dell'approvazione del PEF. Passo quindi la parola a Francesco e ricordo che le domande questa volta sono gestite in maniera diversa rispetto a quanto è successo finora perché abbiamo cambiato la piattaforma e tutte le domande che riceveranno più like saranno trattate prioritariamente. Questo non significa che le altre non verranno risposte. Chiaramente compatibilmente con i nostri tempi e con l'ascolto di questa presentazione cercheremo di risponderle ma in ogni caso noi le valutiamo anche a seguito del webinar e cerchiamo di rispondere nei webinar successivi. Passo quindi adesso la parola a Francesco e auguro una buona formazione a tutti. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti. Come ha detto Francesca, questa è una seconda presentazione che facciamo su questo tema e andiamo per argomenti. Quindi oggi affronteremo quello che è l'argomento madre di tutti, cioè la scelta del quadrante e come poter mettere gli elementi soprattutto economici legati alla qualità all'interno dell'MTF e quindi del nostro PEF. Vi ricordiamo sempre i riferimenti, i riferimenti ARERA e i riferimenti IFER in cui vi ricordiamo che c'è una pagina sempre aggiornata con tutte quante le news, gli aggiornamenti e ovviamente gli ultimi webinar e andiamo, come diceva Francesca, anche a delineare qual è il quadro dei webinar da qui a giugno. Questa ovviamente è la programmazione fatta sino ad oggi. quindi il webinar odierno sulla scelta del quadrante e la parte del PEF. Un prossimo webinar, la prossima settimana, sugli obblighi dei comuni e le tempistiche della qualità ARERA. Il terzo webinar sulle modifiche dei regolamenti del servizio e della tariffa in base sempre alla delibera qualità il 30 marzo, dove che avremo due webinar cura di Valter Giacetti sulla qualità tecnica e qualità contrattuale con obblighi standard. Un altro a cura di Davide Donaddio sulla carta della qualità, cosa deve essere messo e lo schema della carta e la qualità. E in ultimo, verso maggio-giugno, a cura di Maria Assunta Petrozzino, Natalia Boccardo e Luca Lazzaroni sugli obblighi di comunicazione, registrazione e le performance dei comuni in base alla delibera qualità ARERA. Come vedete, sono molti webinar, il tema è sicuramente molto complesso. Oggi, a differenza dell'altro webinar, andremo direttamente a capire, perlomeno in grosse linee, qual è la scelta del quadrante, quali sono gli elementi più importanti anche eventualmente per andare a leggere questa delibera. La delibera della qualità si mette all'interno di un percorso, che è il percorso regolatorio, che è iniziato oramai nel 2019, che ha visto già un secondo metodo tariffario, ha visto che quella di cui discuteremo oggi la delibera sulla parte della qualità del servizio, ma vedrà ancora delle altre deliberazioni molto importanti, di cui una è proprio sullo schema tipo del contratto di servizio e una seconda è un'altra anche sui costi efficienti e la raccolta differenziata. Insomma, come vedete, rispetto alla programmazione che si è data a ARERA, piano piano si sta andando avanti e manca, come vedete, soltanto la parte dell'unbundling, ma che è, diciamo, anche questo prossimo sicuramente nelle decisioni. Insomma, una regolazione che entra sempre di più nel servizio rifiuti e entra sempre di più in maniera più pervasiva anche, come vedremo, sulle modalità del servizio. E questa è invece la parte del cronistorie. Scusate. E' iniziato il tutto nel 2018 con un avvio del procedimento. I primi orientamenti anche sulla trasparenza e le raccolte dati fatte nel 2019. Il 20 che di fatto è stato all'inizio del periodo di regolazione. E come vedete nel 2021 i primi orientamenti e poi gli orientamenti finali, quindi ha fatto molte delibere in tal senso ARERA anche per capire qual era lo stato dell'arte e devo dire, nonostante avesse visto che lo stato dell'arte era piuttosto diverso rispetto agli schemi che stava per approvare, di fatto è andato sulla delibera così come la vediamo oggi, in cui c'è una prima scadenza al 31 marzo, l'individuazione, il posizionamento e gli obiettivi, quindi la decisione dello schema. Decisione dello schema che, come accennato anche Francesca prima, in realtà può andare in uno con l'approvazione del PREF, quindi anche al 30 aprile. e l'altra scadenza importante è il primo gennaio del 23 in cui c'è di fatto l'entrata in vigore del delibere della qualità e al 30 marzo del 24 la prima comunicazione dati ad ARERA. Quindi, entriamo subito nel vivo del tema del webinar di ARERA, cioè la scelta dello schema regolatorio. Quasi questa scadenza del 31 marzo, che vi abbiamo detto può essere spostata anche al 30 di aprile, l'ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del piano economico-finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, di cui la tabella che vedete sotto, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e nella carta della qualità vigente. Entro il termine di qui sopra, l'ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento. Allora, su questo approfitto per rispondere, vedevo già la prima domanda. Allora, Arera nella delibera, come vedete, individua il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori. Quindi, almeno per come è qui determinato, non è possibile identificare due schemi diversi a secondo del gestore. E' pur vero che, e rimane sempre vero, che il gestore deve rispondere a quello che è il livello qualitativo è identificato dal contratto, per cui, da una parte, quindi l'ente o il comune dovrà identificare uno schema che è lo schema della gestione, quindi dell'ambito tari di fatto. Ma è pur vero che questo non leva quelli che sono i doveri del gestore già identificati dal contratto. La prima cosa che dobbiamo sapere è che la regolazione della qualità inserisce dei nuovi obblighi di servizio che andanno integrati nei processi amministrativi e tecnici e quindi anche nei contratti in essere. Allora, ricordiamo, l'abbiamo già detto per il metodo tariffario, Arera va a integrare qualsiasi contratto esistente. Quindi ciò che qui è definito come servizio minimo, se non esiste all'interno del contratto o non è già in essere anche nell'amministrazione comunale, andrà implementato. Per fare questo Arera ha deciso un inizio semplificato, cioè ha inserito quattro quadranti, cioè che cosa? Quattro livelli di qualità diversi connessi a obblighi crescenti che possono essere divisi in due categorie di massima. Quindi ci sono gli obblighi di servizio, in cui appunto, come dicevamo prima, vengono definiti dei nuovi standard di servizi che devono essere resi, e gli obblighi di servizio fanno riferimento a tutti gli schemi, quindi anche allo schema uno, lo schema minimo. Difatti sono solo quattro gli obblighi di servizio che non vengono riferiti a questo livello. E ci sono dei servizi importanti che possono essere una novetà per tanti comuni e tante gestioni, cioè l'obbligo per il pletivo degli ingrombanti a domicilio e il servizio di pronto intervento. Poi ci sono gli standard qualitativi, in questo caso per i servizi sopra definiti, a secondo del livello qualitativo si ha una definizione di performance da dover garantire e a questo sono legati obblighi di registrazione degli stessi e una rendicontrazione da dover anche pubblicare ed inviare. Il primo schema, quindi questa è la differenza fondamentale, non ha livelli di performance definiti né obblighi di registrazione. Chi è tenuto al rispetto di queste disposizioni? Ricordiamo di nuovo, queste disposizioni vanno a superare qualsiasi contratto in essere, per cui dovete vedere ciò che è contenuto all'interno di questa delibera come un minimo da dover ottemperare. Quindi le disposizioni devono essere, sono impositive per tutti i gestori del servizio o anche ovviamente i gestori dei singoli servizi. Ovviamente qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione di rifiuti siano gestite da soggetti distinti, le disposizioni si applicano e questa è la differenza che ha inteso Arera sulla responsabilità dei servizi. Questo pure vi chiedo di fare particolare attenzione perché andiamo proprio ai servizi di cui si ritiene responsabile il gestore dell'attività di gestione tariffa e rapporto con gli utenti in cui è ritenuto responsabile dell'attivazione, variazione o cessazione del servizio ma è anche reso responsabile dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e la rettifica degli importi addebitati. È ritenuto responsabile anche dei punti di contatto con l'utente e delle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti. Come vedete al gestore dell'attività di gestione tariffa e rapporto con gli utenti ci sono anche delle responsabilità che a livello così immediato sarebbero invece le responsabilità dei gestori di raccolta e di spazzamento per esempio i reclami o i punti di contatto. Ma Arera ha inteso centralizzare tutta la parte di rapporto con l'utente all'ente territorialmente competente o al comune se è lui il gestore dell'attività tariffa e rapporto con gli utenti. Questo perché ha voluto evidenziare una responsabilità perché ovviamente i gestori possono cambiare il comune o l'ente territorialmente competente rimane lo stesso ed è importante dal punto di vista dell'utente avere un riferimento unico. Quindi cosa rimane invece al gestore della raccolta e trasporto dello spazzamento e lavaggio strade? Ovviamente il ritiro dei rifiuti su chiamata gli interventi per disservizi o la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare le disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio e la sicurezza del servizio. Anche questo vedremo è un servizio che per molti è un servizio di novità perché stiamo parlando di un servizio di pronto intervento cosa che non è implementata in gran parte delle gestioni del nostro Paese. Vi dicevo la particolarità così come ci sono le particolarità della responsabilità del servizio così devo dire poi era prevista anche delle possibilità di deroghe e in particolare nel caso in cui il ritiro dei rifiuti su chiamata sia affidato a un operatore terzo ovviamente è lui che sarà deputato ad avere gli obblighi previsti dalla regolazione. Ma come dicevo prima sono previste anche delle deroghe rispetto proprio ai due servizi che sono stati delegati al servizio rifiuti tariffe e quindi i punti di contatto con l'utente e le richieste iscritte in informazioni legate alle attività di raccolta e trasporto possono essere delegate al gestore previa intesa con lo stesso e con le associazioni dei consumatori locali. Quindi è possibile delegare ma ci vuole anche qui un atto ufficiale di delega. Altro elemento importante è che qualora un gestore riceva reclami e o richieste riguardanti attività svolte da un altro gestore è tenuto a inaltare la richiesta al gestore competente. Insomma l'utente deve essere garantito che a chiunque scriva dei gestori che sono coinvolti all'interno di una stessa gestione deve essere sicuro che quella sua richiesta vada a buon fine. stessa tutela ci deve essere in caso di avvicendamento gestionale per cui il livello una volta selezionata passa automaticamente anche al nuovo gestore e gli obblighi invece di registrazione decorrono dai sei mesi quindi si dà tempo sei mesi al nuovo gestore per allestire il sistema atto alla registrazione degli obblighi. Allora qui per dirvi una cosa banale ma che è importante poi assorbire anche nel seguito della riflessione è indubbio che se uno chiede al cittadino che il livello qualitativo vuole della gestione dei rifiuti ovvio che tutti quanti diranno ma io voglio il meglio voglio il livello qualitativo avanzato cioè lo schema 4 lo schema 2 e 3 che sono i livelli qualitativi intermedi è indubbio che la media lo schema 1 che come vi ho detto è lo schema immaginato da Rera come inserimento all'interno del mondo della qualità è sicuramente uno schema che seppur inserisce degli elementi che possono essere di novità e quindi migliorativi per gli utenti sicuramente è un livello che deve essere ritenuto come livello di ingresso Francesca Allora sì scusami se ti interrompo ti pongo una domanda perché molti comuni ci stanno facendo la stessa domanda noi sappiamo che l'adozione della carta della qualità e il contratto di servizio sono alla base per la scelta dello schema regolatorio sappiamo anche però che questa carta della qualità non c'è non c'è sempre quindi quasi mai quasi mai ecco quindi è importante chiarire come devono effettuare la scelta in caso di assenza della carta della qualità e nel caso in cui abbiano effettuato questa scelta entro quando dovranno fare questa carta della qualità che ricordo comunque era un obbligo già previsto dal TITR che è l'allegato alla delibera 444 del 2019 Allora sì grazie Francesca allora sì assolutamente l'iter teorico dovrebbe essere questo vi devo dire che anche Arera sa benissimo che la carta della qualità non è stata approvata per la gran parte delle gestioni quindi a che cosa dobbiamo fare riferimento lo rivedremo ancora anche dopo ma sicuramente dobbiamo fare riferimento agli atti che ci sono quindi ai contratti esistenti con i gestori e a quello che è anche lo standard del gestore imposto dal contratto o per quanto riguarda il comune rispetto al regolamento esistente quindi bisogna sicuramente far fede a ciò che esiste vedere ciò che esiste cos'è e come va rispetto ai quattro schemi previsti dalla regolazione e su questo poter fare una scelta una scelta che può essere lo rivedremo anche dopo coerente con lo status quo o anche migliorativa rispetto a questo stato dando diciamo una scelta sfidante e migliorativa di ciò che si è fatto sino ad oggi ricordando che ovviamente gli elementi migliorativi vanno poi inseriti a partire dal primo gennaio quindi anche la carta della qualità diciamo il 31 dicembre del 22 sicuramente è la data entro cui poi andrà approvata la carta della qualità appunto dicevo prima quindi questo qua andiamo rapidamente l'ente territorialmente competente può prevedere l'applicazione di standard migliorativi rispetto a quelli individuati dal testo e questo fa riferimento anche al caso che si diceva prima cioè nella stessa delibera l'ente territorialmente competente qualora un gestore già a un livello superiore a quello che sarà identificato per la gestione all'interno dello stesso deliberato ci può essere questa specifica quindi diciamo si può fare una scelta di livello della gestione e una deroga per il singolo gestore uniformemente a quanto determinato come dicevamo o dalla carta della qualità o dalla contrattualistica in essere gli obblighi della qualità dicevamo prima sicuramente la prima divisione più importante sono gli obblighi di servizio gli obblighi di performance a questi sono legati anche degli obblighi di comunicazione e anche di pubblicazione con questo termine che è diciamo noto a chi già ha frequentato altri ambiti tariffari che è la sunshine regulation che di fatto che cosa significa? Significa la possibilità di confrontare le gestioni cioè il singolo cittadino non solo deve avere visione su quello che è il livello della propria gestione ma la possibilità anche di confrontare cosa che potrà essere fatta come vedremo anche da Arera con dei documenti ad hoc in cui potrà ampiamente confrontare le varie gestioni e andare quindi a poter vedere quali sono le gestioni migliori del nostro paese ma andiamo a quello che vi ripeto è sicuramente l'elemento di più grande novità e che sicuramente va a toccare tutti allora questa è la tabella anche presentata da Arera lo deve essere semplicemente colorata e come vedete gli obblighi rispetto al tabellare quelli che non si applicano sono veramente molto molto pochi gli obblighi sono in giallo quelli contrattuali in azzurro quelli della parte tecnica e questi sono proprio gli obblighi contrattuali per le gestioni di tutti gli schemi regolatori per cui ho scelto di farvi vedere prima ciò che sicuramente coinvolge tutti quindi sono i servizi con cui noi da adesso fino al primo gennaio dovremo vedere sicuramente di organizzare se non lo abbiamo già in esse il primo obbligo appunto sapendo che sicuramente uno degli obblighi a cui gran parte delle gestioni non hanno ancora ottemperato nonostante ciò che era contenuto nel 444 e quindi è proprio l'adozione e pubblicazione di un'unica carta della qualità del servizio per gestione come vedremo la carta della qualità dal punto di vista del cittadino dovrà essere una qualità unica in cui poi dopo andrà a integrare le varie carte della qualità dei vari gestori una definizione univoca della modalità di attivazione del servizio così come tra i servizi obbligatori la modalità per la variazione o cessazione del servizio una procedura unica per la gestione dei reclami delle richieste scritte di informazione e di rettifica degli importi adebitati gli obblighi di servizio telefonico quindi di call center le definizioni della modalità e la periodicità di pagamento nonché la possibilità della ratizzazione e la rettifica degli importi non dovuti obblighi in materia di servizio di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi e obblighi in materia di servizio e di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare invece per quanto riguarda la qualità tecnica la predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale di prossimità così come la predisposizione di un programma delle attività di raccolta e trasporto la predisposizione anche di un programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade e obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani andiamo rapidamente a vedere anche perché questo poi sarà oggetto di un webinar specifico la qualità contrattuale la qualità tecnica ma semplicemente quello che faremo oggi è avere un riferimento di quali servizi stiamo parlando proprio è il primo il primo modo per poter sfrondare quali saranno poi le scelte necessarie per tra i quattro quadranti ma come vi dicevo oltre alla scelta dei quattro quadranti quali sono le vere novità di questo servizio perché vi ripeto quelli che adesso andiamo a analizzare sono i servizi che sono inclusi in tutti e quattro i settori che significa la definizione di un servizio di attivazione variazione e cessazione del servizio allora prima di tutto l'adozione di una procedura che deve individuare puntualmente le modalità di presentazione e il contenuto minimo della risposta quindi il gestore delle attività di gestione tariffa in rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio secondo le indicazioni contenute nel testo la definizione di un termine uniforme per la presentazione delle richieste alla parte delle utenze l'indicazione di una regola certa per la decorrenza degli effetti e in ultimo ma non meno importante l'introduzione di una procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio recupero riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano in tutto in parte della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico secondo me gran parte dei comuni hanno già una procedura di questo genere il tema importante è andare a definire non solo le procedure e quindi quelli che sono i modelli di richiesta che devono essere esplicitati pubblicati e resi quindi disponibili all'utenza ma l'altra novità è sicuramente l'obbligo della risposta a tutte queste richieste e come vedremo anche poi nella parte delle performance anche una tempistica legata a queste performance su la periodicità del pagamento e la rateizzazione allora sicuramente la definizione della periodicità minima di discussione ma e questa è anche un'altra novità l'obbligo dell'accesso a una rateizzazione ulteriore dei pagamenti per rate di importo minimo pari a 100 euro per alcune categorie definite quindi uno per gli utenti che dichiarano di essi beneficiari di bonus sociale per gli utenti che si trovano in condizioni economico disagiate secondo i criteri definiti dall'ente territorialmente competente quindi sono i criteri che noi solitamente andiamo a definire all'interno dei regolamenti ma anche l'obbligo della rateizzazione qualora l'importo addebitato semmai per debiti precedenti o anche per incrementi determinati superi del 30% il valore medio riferito a documenti di discussione emessi negli ultimi due anni quindi sicuramente l'elemento della rateizzazione va a essere un elemento di novità così come anche c'è la parte della rettifica degli importi non dovuti quindi non solo dover garantire all'utente la possibilità di richiedere la verifica del documento di discussione dell'eventuale rettifica degli importi addebitati ma anche l'introduzione di una procedura per la gestione delle richieste scritte e delle modalità di accredito degli importi rettificati quindi richieste certe tempi certi risposte anche queste in tempi certi la stessa cosa per la gestione dei reclami e le richieste scritte in informazioni in cui ribadiamo va non solo indicata la modalità di presentazione ma anche il contenuto minimo della risposta e anche su questo mi permetto di sottolinearlo ulteriormente io se ho visto la possibilità di richiedere informazioni quindi semmai un numero verde o la pubblicazione di una mail raramente ho visto l'obbligo di avere anche delle risposte quindi questo sicuramente un'ulteriore novità inserita all'interno della delibera della qualità e sicuramente va previsto un sistema di risposta agli utenti e questo l'ulteriore obbligo lo accennavamo prima in cui l'obbligo di attivazione di almeno un numero verde che deve essere totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi per richiedere assistenza o informazioni quindi anche su questo c'è quest'obbligo che coinvolge tutti e quattro i livelli c'è l'obbligo anche del servizio minimo di ritiro su chiamata senza oneri aggiuntivi uniformi a livello nazionale quindi almeno un ritiro mensile con un limite di cinque pezzi quindi per chi non l'aveva deve comunque prevedere il ritiro su chiamata la possibilità anche le uniche deroghe diciamo possibili nel caso in cui ci siano decenti di raccolta quindi la deroga non è di eliminazione di questo servizio ma semplicemente di riduzione nelle modalità che adesso andiamo a vedere quindi è possibile ridurre il numero di ritiri minimi ed è possibile ripetiamo nei casi in cui ci siano decenti di raccolta è possibile l'applicazione in capo all'utente di un corrispettivo minimo non superiore al costo del servizio di ritiro qualora già previsto e ulteriormente quindi non è possibile non inserire questo servizio è possibile semplicemente avere queste deroga che eventualmente si abbiano decenti di raccolta è possibile anche l'introduzione di misure volte a tutelare gli utenti che dichiarano di essi in condizioni di fragilità economica e fisica ed è possibile anche estendere questo servizio anche ad altre frazioni di rifiuti urbani sulla parte della continuità e regolarità del servizio qual è l'obbligo allora l'obbligo è uno la mappatura dei contenitori della raccolta stradale di prossimità quindi bisogna sapere dove sono i contenitori ovviamente nel caso in cui ci sia porta a porta in tutta in tutta la gestione va semplicemente definito che cosa viene dato non certo diciamo dove stanno i singoli contenitori ma sicuramente per la parte stradale invece va delineato la mappatura di dove sono i singoli contenitori e poi la predisposizione di un programma delle attività allora su questo mi permetto solo di evidenziare che questo programma deve essere piuttosto preciso cioè deve essere prevista per ciascuna strada l'indicazione della data e della fascia oraria di svolgimento del servizio cioè per dirla in maniera molto semplice se io da dove abito io devo sapere quando è prevista una certa raccolta ma anche la fascia oraria in cui è prevista e idem anche per lo spazzamento e lavaggio delle strade e andiamo al servizio che vi dicevo questo sicuramente è una grande novità quasi per tutti cioè sulla sicurezza del servizio cioè l'obbligo in capo al gestore della raccolta e trasporto di disporre di un numero verde raggiungibile H24 sia da rete fissa che da rete mobile anche mediante trasferimento della chiamata per segnalazioni inerenti a situazioni di pericolo queste le vedrete in dettaglio nei webinar di Giacetti ma giusto per dirvi di che cosa stiamo parlando stiamo parlando ovviamente di pericolo inerente ai rifiuti o a dotazione di rifiuti quindi o a sacchetti che sono stati sparpagliati sul suolo e che danno pericolo alla viabilità o di contornitori stradali che sono stati spostati anche loro possono avere pericolo per la viabilità ma anche stiamo parlando di incidenti stradali e quindi di rifiuti che si sono creati a seguito di incidenti che devono essere rimossi quindi stiamo parlando di alcune casistiche che sicuramente possono accadere stiamo parlando di un servizio che come vi dicevo nella gran parte dei casi non è stato implementato e qualora il gestore non abbia avuto questo servizio all'interno del contratto e la responsabilità dell'individuazione del soggetto responsabile all'effettuazione di questo servizio è dell'ente territorialmente competente o qualora non ci sia del comune quindi sicuramente questo è un elemento di delicatezza che sicuramente andrà risolto da qua al primo gennaio ripeto anche nel caso in cui il livello selezionato sia semplicemente il primo dicevo la modulistica qui vi ho fatto un elenco proprio grossolano di quelli che sono i moduli che il cittadino dovrebbe trovare ovviamente il modulo può essere anche unico in cui ci siano delle caselle ballate in cui uno possa selezionare per che cosa sta facendo la richiesta ma stiamo parlando come vedete di molti moduli quindi molti strumenti che il cittadino deve poter trovare quindi ripetiamo dalla richiesta di attivazione cessazione del servizio l'uscita dal servizio pubblico l'attestazione del conferimento di fiuti i reclami le informazioni la rettifica degli importi la rateizzazione il ritiro dei rifiuti o i disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare quindi un set di strumenti che va dato in disponibilità agli utenti e di cui ovviamente ci dobbiamo preoccupare anche della successiva gestione quindi sia per attuare la richiesta del cittadino ma come abbiamo visto ribadisco l'importanza anche delle risposte allo stesso quindi questi ripetiamo sono i nuovi servizi quelli che sono inclusi per tutti e quattro i settori invece andiamo a vedere quelli che sono i servizi per gli schemi regolatori avanzati quindi per gli schemi regolatori più avanzati quali sono i servizi che non sono stati inclusi per tutti allora per lo schema 234 per quanto concerne la qualità contrattuale c'è l'obbligo anche di uno sportello online o in alternativa uno sportello fisico quindi la possibilità via web di avere un'interfaccia con la gestione per quanto riguarda invece lo schema 34 quindi quello inerente in particolare la qualità tecnica c'è anche l'obbligo di andare a verificare il riempimento dei contenitori quindi questo è un'ulteriore richiesta che si fa abbiamo detto prima il monitoraggio il sapere dove sono i contenitori in questo caso invece si sta parlando di un controllo in cui va verificato il riempimento del contenitore e perché il riempimento del contenitore perché ovviamente un contenitore sovraniempito può significare o che non è stato tarato bene il contenitore o ne sono stati messi pochi soprattutto se stiamo parlando di parte stradale per quanto concenne invece il solo schema regolatorio 4 che ricordiamo è quello avanzato c'è l'obbligo di registrare le interruzioni del servizio di raccolta e trasporto così come pure l'obbligo di registrare le interruzioni anche del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade allora prima di andare sulla parte del performance volevo dare un'occhiata alle domande per vedere se ci sono delle domande parenti eccoci qua la maggior parte delle domande le ho risposte allora c'è una domanda comune gestione tariffe rapporti con gli utenti l'approvazione della carta della qualità dovrà avvenire con atto di consiglio ecco questo lo approfondiremo nel prossimo webinar del 30 marzo con il dottor Mirto questa è una domanda che finora non ci siamo posti in quanto ci siamo concentrati più sulla scelta del quadrante che dovrà avvenire con atto di consiglio possibilmente insieme all'approvazione del PEF e delle tariffe ci sono delle domande che riguardano gli ingombranti ecco il ritiro minimo su chiamata riguarda gli ingombranti o qualunque rifiuto? no stiamo parlando degli ingombranti come vi dicevo questo stiamo parlando è un servizio ad hoc che è il ritiro a domicilio degli ingombranti a domicilio inteso ovviamente sul piano strada come obbligo qui inteso e quindi di questo stiamo parlando perché diciamo molti comuni ad esempio avendo un centro di raccolta non hanno mai implementato questo servizio a Rera qui è inteso porre questo obbligo e come vi dicevo prima questo obbligo deve essere ottemperato da tutti quindi anche chi non ha questa tipologia di servizio la dovrà implementare da oggi sino al ovviamente per il primo di gennaio ok poi ne abbiamo un'altra servizi su chiamata come è possibile prevedere e organizzare un ritiro mensile se poi con l'articolo 31 il tempo di ritiro è stabilito in 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente allora questo non è che io devo organizzare un ritiro mensile diciamo quella è la frequenza con cui io posso richiedere il servizio diciamo questo è visto dal punto di vista dell'utente ovviamente io lo richiedo entro 15 giorni quel servizio deve essere reso ma diciamo che l'utente ha 12 fish perdonatemi il termine così però ha 12 possibilità di chiamata e non può superare questa è stato tarato diciamo la possibile le necessità poi sul scusa Francesco ce ne abbiamo un'altra che ha 4 like diciamo così l'attivazione del numero verde è obbligatorio per ogni gestore tariffe e servizio ne basta uno ad esempio obbligo solo per il gestore servizio e non per gestore tariffe allora nessuna delle due nel senso che è previsto uno unico della gestione però deve poter rispondere a tutte le esigenze degli utenti per cui il numero verde deve devo poter interloquire con un operatore che sia a conoscenza di tutta la parte di cui stavamo dicendo prima per cui va sicuramente implementato se c'è solo quello sul gestore del servizio e non per il gestore delle tariffe ok allora ce n'è qualcun'altra ecco se il servizio è porta a porta cosa si intende per servizio su chiamata oggi i contribuenti conferiscono in maniera gratuita e autonoma all'isola ecologica comunale sì però se devono conferire un ingombrante devono poter avere il servizio a domicilio quindi non è porta a porta è una cosa e ingombrante quando si parla di domiciliare si parla appunto degli ingombranti o eventualmente diciamo altri servizi che ovviamente non sono inclusi nel porta a porta quindi diciamo parliamo degli ingombranti perché è una delle casistiche classiche da questo punto di vista ok poi abbiamo allora se abbiamo appena approvato il PEF allora questo è sicuramente un po' un problema nel senso che poi lo vedremo diciamo all'interno del PEF è previsto nella relazione è previsto che si debba inserire qual è il quadrante selezionato e come vedremo comunque è un tema del PEF anche la copertura dei costi quindi quando anche noi abbiamo deciso di non spostare nulla sicuramente la relazione va integrata poi se c'è un'esigenza anche di coprire dei costi secondo me abbiamo tempo da qua fino al 30 di aprile eventualmente per integrare quella stessa quella stessa deliberazione sì si potrebbe fare uno schema doc per i comuni che hanno già approvato il PEF uno schema doc di approvazione della scelta del quadrante e poi caricare tutto insieme quando la piattaforma RERA sarà resa disponibile sì diciamo c'è una scelta minimale che è sicuramente l'integrazione della relazione perché la scelta del quadrante quello è il luogo dove si ufficializza anche la scelta rispetto ad RERA poi invece c'è la valutazione degli impatti della qualità come stiamo vedendo se ci sono dei servizi ultroni rispetto a quelli che noi eroghiamo ad oggi sicuramente dobbiamo capire anche la copertura economica come poterla andare se deve essere integrata all'interno del PEF e andiamo quindi alla parte invece del performance quindi gli standard generali allora sugli standard di che cosa stiamo parlando stiamo parlando degli indicatori che fanno riferimento ovviamente ai servizi di cui abbiamo parlato sino ad oggi quindi laddove parliamo di attivazione di servizio ecco e per questo anche prima vi evidenziavo sull'importanza dell'elemento risposta perché poi l'elemento di performance è proprio sul tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio e vedremo che gran parte dei riferimenti vedete tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione tempo di consegna delle attrezzature di raccolta tempo di risposta motivata ai reclami iscritti il tempo di risposta alle richieste iscritte in informazioni le risposte anche alla rettifica degli importi addebitati il tempo medio di attesa del servizio telefonico il tempo di rettifica degli importi non dovuti il tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata il tempo di intervento in caso di segnalazione dei servizi e il tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare questi sono i parametri e le performance legate alla qualità contrattuale invece quelle legate alla qualità tecnica sono legate alla puntualità del servizio alla e questo quindi vi evidenzio perché è così importante avere un servizio ben definito temporalmente quindi come giorni e come fasce orarie perché se no non si riesce ovviamente aveva una definizione della puntualità la diffusione dei contenitori stradali di prossimità non sovrariempiti quindi anche questo è un livello di qualità perché se ribadiamo se un contenitore è riempito oltre la sua capacità vuol dire mediamente che c'è una difficoltà di programmazione del servizio un altro dei parametri è la durata dell'introduzione del servizio di raccolta la puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio strade la durata anche in questo caso dell'eventuale interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio e il tempo di arrivo sul luogo della chiamata per il pronto intervento ora a differenza della prima parte vedete che qui sullo schema 1 non ci sono standard né di qualità contrattuale né di qualità tecnica ed è questa la grande differenza tra le due parti del sistema quindi nel primo schema sicuramente i servizi vanno implementati e come abbiamo visto e come abbiamo visto anche dai vostri riscontri alcuni di questi servizi sono già delle novità quindi già c'è una difficoltà ad aderire allo schema 1 ma mi permetto di ricordare che l'adesione allo schema 1 è un'adesione standard cioè anche se non si scegliesse nulla dal primo di gennaio qualsiasi gestore gestione obbligatoriamente deve avere dei servizi che siano conformi allo schema 1 sullo schema 2 e 3 in realtà c'è una differenza di performance tra la qualità contrattuale e la qualità tecnica quindi lo schema 3 ha una prevalenza di qualità tecnica e lo schema 2 una prevalenza di qualità contrattuale e questo anche rispetto ad alcune richieste che sono state fatte vedete Arera in questo modo ha scelto di identificare lo schema ed è anche un'evidenza se volete del fatto che la scelta dello schema è unico perché proprio tra lo schema 2 e 3 ha inteso differenziare quelli che hanno una parte di qualità contrattuale quindi un servizio tari di servizio tari interfaccia con gli utenti più assestato e chi invece ha un gestore di livello più avanzato lo schema 4 invece si richiede un livello avanzato sia per la qualità contrattuale che per la qualità tecnica quali sono le performance anche queste le vedrete in dettaglio qua facciamo veramente semplicemente una rapida presentazione per capire di cosa stiamo parlando perché vi dicevo per molti già rispondere già è una novità sapere di dover rispondere entro un certo tempo così come sono definiti qua ci fa capire che il livello di performance richiesto dalla scelta di questi quadranti sicuramente è un livello di performance di buon livello allora per l'attivazione variazione e cessazione del servizio le risposte alle richieste devono avvenire per entro 30 giorni lavorativi mentre invece nel caso di attivazione del servizio devono essere consegnate le attrezzature per la raccolta entro 5 giorni lavorativi se non c'è esigenza di sopralluogo o entro 10 giorni lavorativi se c'è un'esigenza di sopralluogo quindi stiamo parlando di una settimana o due settimane 30 giorni ricordiamo sono lavorativi per cui vanno spalmati ovviamente nel caso in cui si intende invece un mese lineare stesso tempo cioè i 30 giorni lavorativi è previsto come target di performance per le risposte ai reclami iscritti così come le risposte anche alle richieste scritte di informazioni mentre invece una risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi debitati c'è il tempo dei 60 giorni ma ovviamente questo sapete bene molti di voi che per avere un'analisi di una richiesta di modifica degli importi addebitati ovviamente va verificata in dettaglio la scheda Tari dell'utente e quindi sicuramente questo avrà bisogno di un tempo maggiore tempo maggiore salto un attimo il successivo punto che ad esempio per la rettifica degli importi non dovuti è stata messa in 120 giorni lavorativi e qui stiamo parlando di ridare fisicamente i soldi agli utenti quindi 120 giorni lavorativi possono sembrare tanti ma per chi ci lavora all'interno di questo settore sicuramente sono tempi di grande sicurezza per l'utente ma di lavoro che deve essere proporzionato da parte degli uffici competenti per quanto concerne i punti di contatto con l'utente il tempo di attesa per il servizio telefonico è di 240 secondi il servizio di ritiro su chiamata è 15 giorni lavorativi e gli interventi per i disservizi per le riparazioni e le attrezzature e la raccolta domiciliare anche qui c'è il tempo 5 giorni se non c'è necessità di sopralluogo o 10 giorni no scusate per la raccolta domiciliare per quanto concerne la continuità della regolarità del servizio di raccolta qui è stato fatto una definizione di tempo di recupero del servizio non effettuato è differenziato a seconda della tipologia di servizio quindi è previsto entro quindi il tempo entro cui non è previsto non è visto come un disservizio sono 24 ore per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale di prossimità sono state differenziate le zone di pregio in cui il tempo per il recupero è sempre 24 ore e 72 ore invece per le zone con media o bassa intensità abitativa e anche per la regolarità per il servizio di spazzamento e lavaggio strada è stata fatta una differenza che è identica a quella precedente cioè 24 ore per le zone di pregio e due giorni lavorativi negli altri contesti cioè con frequenze programmate quindicinali ovvero tre giorni in caso in cui la frequenza sia prevista come frequenza mensile nel caso della sicurezza quindi il tempo per il pronto intervento è di 4 ore quindi immaginate un servizio una chiamata notturna comunque entro le 4 ore bisogna garantire l'arrivo sul luogo della chiamata e nel caso di servizio di reso da un gestore non integrato ci sono anche delle tempistiche previste per lo scambio di informazioni quindi il tempo minimo l'avevamo detto prima anche a un gestore diverso entro 5 giorni deve essere inviato al servizio giusto o nel caso in cui sia collezionato dal servizio di gestore con l'utente deve essere inviato al gestore tecnico e entro ulteriori 5 giorni va comunque inoltrato all'utente la risposta quindi l'utente in caso di gestione non integrata all'interno di 10 giorni lavorativi deve avere comunque sicurezza della propria risposta e qual è la differenza tra i tre schemi abbiamo detto più avanzati quindi 2, 3, 4 la differenza è semplicemente nelle performance cioè nelle percentuali minime di risposte o di servizi erogati entro il tempo determinato dei livelli di performance come prima abbiamo visto allora non andiamo nel dettaglio ma come vedete nella parte contrattuale c'è mediamente un 80% dello schema 2 che abbiamo detto ha una prevalenza contrattuale mentre per lo schema 4 che è quello avanzato mediamente abbiamo 90% mentre per la parte tecnica abbiamo il 70% vi evidenzo ulteriormente che a differenza di quanto uno potrebbe immaginare non è che lo schema 3 per avere una prevalenza tecnica la parte contrattuale non è prevista è prevista ma come vedete semplicemente con un livello di percentuale minore per la parte tecnica vedete gli standard sono diversi e abbiamo un 80% per lo schema 3 e 90 o 85 sullo schema 4 e gran parte di questi servizi lo schema 2 non è soggetto alla verifica delle performance e unicamente sulla parte proprio del pronto intervento invece si è inteso dare un livello di performance quindi sulla qualità contrattuale abbiamo quindi 11 indicatori temporali legati alle performance definite sui servizi che abbiamo visto e sulla qualità tecnica invece sono sette indicatori di performance ma ovviamente cioè non ovviamente abbiamo detto quindi abbiamo i servizi abbiamo dei livelli di performance abbiamo dei target ben specifici di che cosa significa dare una risposta di qualità all'utente ma tutto questo è legato anche un obbligo di registrazione e di comunicazione qual è l'obbligo per lo schema 1 l'obbligo per lo schema 1 abbiamo detto lo schema semplificato è semplicemente l'obbligo di trasmettere una relazione firmata dal legale rappresentante attestante rispetto degli obblighi di servizio e ribadiamo che per questo servizio non ci sono livelli generali di qualità ma comunque c'è bisogno di una relazione che attesti il fatto che siano stati svolti dei servizi in qualità cosa succede invece negli schemi regolatori 2 3 e 4 allora l'abbiamo intuito da cosa abbiamo detto prima visti tutti questi livelli di performance quindi ci deve essere sicuramente una modalità di registrazione e di comunicazione dei dati inerenti agli indicatori di qualità quindi bisogna non solo rispondere all'utente non solo rispondere all'utente entro una certa data ma bisogna anche registrare il dato di performance di queste risposte e quindi va predisposto il registro disponibile su apposito supporto informatico sul quale il gestore deve riportare le informazioni e i dati concernenti alle richieste di prestazioni soggette a livelli generali di qualità e l'introduzione in capo al gestore del servizio dell'obbligo di comunicare all'autorità e l'ente territorialmente competente il sette di dati inerenti agli indicatori di qualità per ciascuna gestione entro il 31 marzo di ogni anno quindi l'abbiamo detto all'inizio ma entro il 31 marzo del già dal 2023 il 24 scusate il gestore è tenuto a comunicare all'autorità e all'ente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente suddivise per tipologia nonché le informazioni e i dati relativi all'anno precedente cosa significa i dati abbiamo detto lo schema 1 che è previsto semplicemente una relazione invece riguardando gli altri schemi il numero totale delle richieste di prestazioni ricevute nell'anno di riferimento per la quale sia stato rispettato il livello generale di qualità il numero totale delle richieste di prestazioni per il quale il gestore non ha rispettato il livello di qualità il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzioni sia delle prestazioni per le quali non sia stato rispettato il livello generale definito nel testo ultimo quindi dobbiamo predisporre il servizio svolgere il servizio farlo secondo un certo target avere una percentuale massima di errore dobbiamo registrare dobbiamo comunicare in ultimo dobbiamo anche pubblicare quindi c'è l'obbligo di pubblicazione per tutti i gestori sul proprio sito internet del posizionamento della gestione nell'ambito della matrice i standard di qualità di propria competenza la tariffa media applicata alle utenze domestiche l'articolazione dei corrispettivi applicate alle utenze domestiche non domestiche l'autorità può procedere a pubblicazione anche comparative delle informazioni e dei dati di qualità comunicati dai gestori ora giusto per darvi un'idea anche questo poi lo vedrete in dettaglio nel webinar che sarà presentato da Walter Giacetti cosa significa la pubblicazione la comunicazione dei dati cosa si deve comunicare andiamo su due esempi inerenti proprio all'ufficio tributi e uno invece inerenti la parte del gestore tecnico quindi le richieste a reclami scritti cosa è tenuto a fare il gestore ovviamente dei livelli 2, 3, 4 quindi è tenuto a comunicare il numero dei reclami delle richieste di informazioni ma anche delle richieste di rettifica degli importi addebitati ricevuti soddividendo ulteriormente le singole tipologie di richieste per reclami ai quali non sia stata inviata la risposta motivata nell'arco dell'anno reclami ai quali sia stata inviata la risposta o per i quali sia stato rispettato il livello generale di qualità reclami per i quali sia stata inviata la risposta motivata nell'arco dell'anno per cui però non sia stato rispettato il livello generale di qualità il tempo effettivo medio di risposta Invece, sulle richieste di rettifica degli importi addebitati va evidenziati i rimborsi a favore dell'utente indicando anche la modalità utilizzata per i quali sia stato rispettato il livello generale. I rimborsi anche per i quali non sia stato rispettato il livello generale di qualità e il tempo effettivo medio di rimborso calcolato sulla base dei tempi effettivi di rimborso sia dei casi per i quali sia stato rispettato il livello generale di qualità. Vi dicevo, questi sono solo due esempi. In realtà il panel di quello che deve essere comunicato è della stessa complessità ma su tutti quanti i settori. Volendo fare un riassunto, per lo schema 1 abbiamo detto che non rientra negli obblighi inerenti le performance né deve rendicontare le stesse. Ma su questo io mi permetto di dare un consiglio, cioè di iniziare a registrare le performance anche esistenti. Allora, prima di tutto nella carta della qualità, se diciamo che il gestore deve rispondere, forse iniziamo a dare un tempo di risposta. Tariamoci su quello che è il tempo attuale. Se anche il tempo di risposta è 30 giorni o anche i 15 giorni per il call center, riteniamo che siano troppo stritti. Nel caso in cui siamo in uno schema 1, diamoci anche un tempo superiore. Ma iniziamolo a registrare in modo da poter misurare e valutare anche la possibilità di passare a uno schema superiore, anche nella seconda, nella successiva approvazione del PEF. E comunque iniziamoci a preparare anche ad eventuali adeguamenti futuri. Cioè il tema della qualità sicuramente è un percorso, non dobbiamo immaginare che questa delibera rimanga così negli anni a seguire. Per gli schemi regolatori, invece 2, 3 e 4, il discrimine è sicuramente, quindi com'è che possiamo scegliere gli altri tre, è sicuramente la differente applicazione delle performance dei servizi e sul livello richiesto. Quindi in questo caso sarà necessario ovviamente predisporre la registrazione e le performance per tutti i servizi ed avere un controllo delle stesse. Su questo un consiglio, se si inizia a decidere uno schema già da oggi, anche prima del primo gennaio, o comunque di iniziare quanto prima la fase della registrazione e la comunicazione, in modo da tararsi sul primo di gennaio ed evitare di avere quindi giudizi negativi rispetto a questo elemento. In ultimo, ma non per ultimo, dicevamo la carta della qualità. Dicevamo anche con Francesca prima, vedete questo è un dato direttamente da Rera, solamente il 7% delle gestioni, soprattutto per la gestione tariffa e rapporto con gli utenti, ha una carta della qualità. E cosa va approvato? Sicuramente da qui al primo di gennaio. Un'unica carta della qualità, su questo ci sarà un webinar specifico di Donaddio. Anche nel caso in cui ci siano più gestori, si possono anche approvare differenti carte della qualità, ma la stessa poi andrà integrata in un'unica carta della qualità, poi accessibile dall'utente. Andiamo all'elemento della copertura. Abbiamo detto che ci possono essere servizi nuovi, ci possono essere modalità di registrazione nuova, ma come si coprono questi costi della qualità? Ed ecco che la risposta è all'interno dell'MTR. Ricordiamo rapidamente che il PEF, così come previsto nell'MTR, ha un passaggio importantissimo, che è un passaggio da un PEF annuale a uno pluriennale. Quindi il PEF, che alcuni di voi già hanno approvato, ma altri stanno per andare ad approvare, è un PEF che in realtà va fino al 2025. Con una possibilità di aggiornamento a cadenza biennale. Questo aggiornamento vi voglio ulteriormente ricordare che il PEF, o anzi la definizione dello schema va anche lui con il PEF, per cui potremmo anche programmare una selezione dello schema adesso, quindi per il 2023, per poi nel 2023 andare a provare o andare a migliorare o a cambiare lo schema definito per il secondo biennio, cioè il 24-25. E vi ricordavo prima, nella relazione va inserito proprio il livello della qualità del servizio e le variazioni rispetto all'anno precedente. Quindi è importante poter andare a inserire questa parte, va inserito anche il fabbisogno di investimenti e la qualità, come vedremo, è uno degli investimenti già inseriti all'interno delle MTR. E quindi questo è sicuramente l'elemento da dove andare a inserire. Ma quali sono le leve su cui possiamo andare a muovere all'interno del PEF? Allora sono sicuramente queste due. è CQ sia nella parte variabile che nella parte fissa, che sono proprio le componenti di natura previsionale riconducibili all'adeguamento, agli standard e ai livelli minimi di qualità. Quindi, assolutamente, nel PEF il consiglio che vi diamo è di andare a fare prima una disamina della distanza che abbiamo tra il servizio attuale e il livello di qualità selezionato e con la possibilità di andare a mettere gli eventuali investimenti necessari all'interno di questo parametro. Vi ricordiamo anche che tra gli oneri di natura fissa all'interno dei COI, quindi non CQ, quindi CQ sulla parte della qualità, ma all'interno dei COI, è possibile andare a valutare investimenti legati all'introduzione della tariffazione puntuale. Quindi, eventualmente, si definisse che per rispettare al meglio la qualità o può essere il momento giusto di passare a una tariffa corrispettiva o a una tariffa puntuale, ricordiamo che c'è un ulteriore elemento per inserire questa tipologia di investimenti. E' possibile inserire questi elementi, ma quanto pesano? Allora, quanto pesano lo vediamo nella formula del limite della crescita in cui QL con A, che è proprio il parametro per gli oneri derivanti dall'applicazione della qualità, vedete miglioramento ai livelli della qualità, è previsto un parametro del 4%, quindi è possibile inserire un 4% di incremento dall'anno precedente a questo PEF per andare a inserire proprio il termine di incremento di costi derivanti dagli investimenti per la qualità. Se anche questo 4% non fosse sufficiente, ricordiamo anche qui che l'incremento e il miglioramento previsto per la qualità è uno dei termini previsti per l'istanza del superamento del limite della crescita, quindi se siamo particolarmente indietro, ricordiamo che ci possono essere investimenti di software, ma anche di materiali personale, caso mai non c'è abbastanza personale per poter rispondere, o anche l'attivazione, come abbiamo visto, dei servizi nuovi, quali call center o anche di pronto intervento, all'interno delle istanze del limite della crescita c'è proprio la valutazione relativa agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche del perimetro gestionale. Quindi la capacità economica sicuramente c'è all'interno del PEF e delle previsioni che possiamo andare a mettere dentro. Il problema, come diceva, vedevo anche alcuni nelle domande, nelle interazioni che leggevo, il problema sicuramente è dover prevedere oggi ciò che poi dovremo andare a fare il prossimo anno. Però sicuramente c'è un'esigenza di programmazione sempre più importante, proprio sul livello della qualità, come abbiamo visto, ci sono degli elementi e dei target che se vogliamo iniziare dal primo di gennaio del 23 sicuramente vanno iniziati a vedere sin da oggi. Questo, il sistema, andiamo sulle slide conclusive, tutto questo dobbiamo imparare a vederlo come un sistema che non è più incentrato sul comune o sul gestore, ma come cercato di evidenziarvi anche in questa presentazione, è tutto centrato sul cittadino. Il cittadino deve avere a disposizione degli strumenti, deve avere delle risposte nei tempi definiti, deve avere un servizio che sia secondo uno standard uniforme in tutta quanta nel nostro Paese. Quindi servizi uniformi, performance uniforme, risposte uniforme e, oltre tutto questo, non solo la risposta a lui, ma avere un gestore che si misura da solo e che ufficializzi tutte queste misurazioni. E quindi questo è il cittadino. Tutto quello che vedete di Arera è tutto con il cittadino al centro che deve vedere questi che diventano quindi dei suoi diritti, quindi dagli standard univoci dei servizi e della qualità, il call center, i capiti digitali, possibilità di interloquire per avere informazioni, reclami, servizi. Come abbiamo visto, gran parte dei livelli di performance sono sulle risposte, quindi non solo devo poter avere una modalità facile per chiedere, ma devo avere risposte e devo avere risposte in tempi certi. Quindi devo avere una modulistica ben precisa, devo avere accesso facile a come posso interloquire, devo avere un chiaro evidenza di quello che è il programma dei servizi, sia come orari che come giorni, devo sapere dove ci sono le attrezzature, devo poter confrontare il mio servizio con altri gestori e devo quindi poter verificare le performance della gestione. Tutto ciò vi ricordiamo per avere poi dopo il mio livello di soddisfazione rispetto alla gestione. e ricordiamo quindi qual è il cronoprogramma. Oramai il passato è il momento delle indagini e delle consultazioni, che come vi ricordo però, le consultazioni di Arera sono dei momenti importanti. Noi come IFEL partecipiamo e cerchiamo ovviamente di interloquire, cercando di essere i difensori di quelli che sono anche gli interessi dei comuni. Ma vi invito veramente a vedere ciò che succede in Arera, perché se voi non vi occupate di ciò che fa Arera, Arera sicuramente si occupa invece di quello che fa qualsiasi comune. Il 2022 abbiamo detto è un anno centrale per la preparazione alla qualità. Prima di tutto con la definizione del posizionamento, poi nella definizione degli investimenti e di ciò che servirà, quindi sia come organizzazione, come nuove procedure, nuovi sistemi aziendali, ad esempio software per la registrazione delle performance, sia anche probabilmente come formazione del personale. ma il 2023-2024 invece è l'anno dello start-up. Dal primo gennaio, pronti partenza via, iniziamo con l'era dei livelli, quindi con la registrazione delle attività, la pubblicazione dei dati, la comunicazione e l'esigenza comunque di avere un controllo interno della coerenza regolatoria, quindi sia un'interfaccia nuova con i gestori tecnici, sia anche un'interfaccia nuova all'interno del comune per iniziare a misurarsi e a capire come vanno le questioni. Dimmi Francesca. No, no, non ti voglio interrompere. Allora chiudo con questo, quindi volendoci dare un timing di che cosa dobbiamo fare, allora sicuramente la prima fase è un controllo con il gestore, quindi una verifica documentale, lo dicevamo all'inizio, con ciò che abbiamo, quindi contratti o contratti di servizio, anche un mio consiglio, anche un eventuale questionario da fornire ai gestori per capire qual è il loro modo di gestire, per esempio il call center, per esempio l'interfaccia con gli utenti, quali sono le modalità con cui ricevono i reclame ed eventualmente rispondono. A valle di tutto questo bisogna decidere lo schema. Ribadisco, lo schema può essere anche migliorativo rispetto ai contratti attuali, per cui se questo è dobbiamo comunicarlo al gestore, vedete entro il 28 febbraio che ovviamente è passato, ma diciamo che la nuova scadenza possiamo attestare che sia il 31 marzo di comunicazione ed eventuale miglioramento, perché ci siamo detti che la delibera, come nostro timing ultimo, può essere sicuramente il 30 di aprile. Ed è importante non solo approvare la delibera e lo schema di riferimento, ma è importante delineare quali sono gli adeguamenti e l'allineamento rispetto al livello qualitativo scelto. In questo la difficoltà sicuramente ci potrà essere con i gestori, soprattutto se privati, perché anche a fronte di un contratto, vi ricordo che ciò che è definito dal livello, soprattutto dal livello 1, diviene di fatto un obbligo, che poi sarà coperto ovviamente dal PEF, secondo quello che è le modalità definite dall'MTR. Quali sono gli atti conseguenziali? Il regolamento, sicuramente un rinnovamento del regolamento che andrà fatto in ottemperanza a quello che sono le nuove interfacce degli utenti, l'approvazione del PEF, gli investimenti da dove definire, e la definizione di tutti quelli che sono i modelli per le richieste e pubblicazioni su internet dei dati richiesti. Ricordo che lo schema rimane lo stesso per la durata del PEF, che quindi può essere due o quattro anni, e ripetiamo ulteriormente che per gli utenti sarà il primo giudizio sulla gestione dei rifiuti. Quindi non si dovrà più chiedere il mio è un gestore bravo, il tuo è un gestore così così, oppure i rifiuti vanno male o bene, ma avranno dei livelli ufficiali dettati da Rera rispetto a questo elemento. Con questo vi ringrazio e andiamo quindi alle domande. Vai Francesca, se hai già... Scusate, non avevo attivato l'audio. Allora, io inizierei dalla domanda che ha ricevuto più like, Silvia Marianni. Per quanto riguarda la scelta del quadrante regolatorio, dovrà quindi avvenire con atto di consiglio contestualmente all'approvazione del PEF? Sì, questo è quello che abbiamo sempre detto, perché comunque la scelta del quadrante implica degli investimenti, implica delle scelte che comunque rientrano le competenze del consiglio. Rera non entra nel merito, non entrerà mai nel merito delle scelte decisionali dei comuni come sono fatte con delibere di giunta piuttosto che con delibere di consiglio. È chiaro che quelle cose rimangono sempre attinenti al testo unico degli enti locali e mai potranno essere modificate in questo senso. Quindi faremo un necessario approfondimento sul prima passaggio in giunta e poi ratifica il consiglio. Però nella sostanza questa scelta, visto che implica delle scelte che rientrano le competenze del consiglio, noi diciamo che è un atto di consiglio. Non so se Francesco hai visto qualcos'altro. Ah, ecco, per esempio ne ho vista una. Come fare se i cittadini invece che scrivere sono abituati solamente a telefonare? Richiedere di compilare un modulo a gravi alle procedure e i cittadini anziani non utilizzano il PC. Come faccio a tracciare le telefonate? Quello comunque si può tracciare perché appunto come poi identifica Rera, questo lo vedete in dettaglio nella presentazione che farà Valter Giacetti, c'è anche per cosa c'è stata la telefonata e poi si può sempre inserire la richiesta quindi da parte del call center all'interno dello stesso sistema informativo poi previsto per gli utenti. per cui è semplicemente la richiesta di un'interfaccia ulteriore. Un'altra domanda, anche se ho avuto solo un like, ma mi sembrava interessante, sul livello di riempimento dei contenitori stradali nel caso di porta a porta. Allora, nel caso di porta a porta è previsto anche il sovrariempimento anche dei bidoncini del porta a porta. Quindi è un'analisi che va fatta, come vi ho detto deve essere fatta anche una verifica sul campo e bisogna pubblicare poi anche i risultati di questa verifica. Nel senso che nel caso in cui, ripeto, anche nel porta a porta, io ho un solo contenitore di multimateriale e siamo più condomini, se quello è sempre pieno è ovvio che è un livello di non progettazione fatta al meglio di quell'elemento. Oppure, diciamo, beviamo molta acqua in bottiglia, cosa che non si dovrebbe fare, ma che dobbiamo fare. Diciamo, va avanti anche così. C'è un'altra, il comune che è soltanto gestore delle tariffe può demandare completamente il rispetto della qualità al gestore del servizio, gestore unico ambito? Come abbiamo visto no, nel senso che poi ci sono dei servizi che sono soggetti a qualità, che sono anche inerenti la parte delle tariffe, per cui sia come interfaccia dell'utente in caso di richieste, sia in caso di ratizzazione, sia in caso di informazioni anche sul ruolo tari. Per cui quello sicuramente bisogna tenerlo al proprio interno e quegli obblighi non si possono esternalizzare. Come abbiamo visto, è possibile invece esternalizzare il rapporto con gli utenti inerente la parte del gestore del raccolto e dello spazzamento, ma unicamente quello. Tra l'altro, passando per le associazioni di consumatori. Qua pure avevo visto una richiesta in cui si chiedeva cosa si fa il riferimento. Allora, come diceva Francesca, Arera si salva sempre perché non spiegando niente, diciamo, in realtà, dà adito a tutte le interpretazioni di questo mondo. Spiegando un po', spiegando l'essenziale, diciamo. Sì, diciamo, spiegando quello che così non si fa nemico a nessuno e va sempre bene. Allora, di certo non è sufficiente il gestore, questo è il messaggio. Poi, quale sia il set di associazioni di categoria che si intende coinvolgere, almeno pro forma, questa cosa va fatta, va comunicata e bisogna attendere anche una risposta da parte delle associazioni di categoria presenti sul territorio. Quindi, se c'è già una consulta delle associazioni o nel caso non ci sia, comunque bisogna fare un'interlocuzione di questo genere. Nel senso che vuole dare Arera è che l'utente, o singolarmente, o con le associazioni che lo rappresentano, deve essere messo a conoscenza di queste variazioni. Quindi, questo è il senso generale. Ce n'è un'altra interessante. Allora, per il numero verde, nel caso in cui sia attualmente attivo solo per il gestore del servizio, si può pensare di implementare lo stesso con un reindirizzamento delle chiamate relative al tributo, qualora il gestore delle tariffe non ne abbia uno attivo? Assolutamente sì. Molto intelligente questa impostazione. intelligente ed è proprio il senso di quello che bisogna andarsi a organizzare. Quando io dico una nuova organizzazione è proprio questo, diciamo, la connessione tra i servizi. Cioè, il senso è che il cittadino deve vedere il servizio rifiuti in maniera univoca. Per questo abbiamo visto che il rapporto con l'utente è stato lasciato nel servizio tariff del rapporto con l'utente. Non è stato dato già standard al gestore del servizio raccolto spazzamento. Quindi il senso è il cittadino deve vedere un servizio. Poi che internamente uno si interfacci o faccia altre scelte, questo ovviamente è possibile. L'importante è che gli utenti chiamo uno e devo sapere che lì posso avere risposte su tutto. Va bene. Allora, sto andando avanti nelle domande. se tu ne trovi qualcun'altra. Allora, il nostro comune è sotto la comunità montana per la gestione dei rifiuti. Il comune ha solo la riscossione del tributo. Dobbiamo fare la scelta del quadrante. La comunità montana deve predisporre il tutto e poi chiedere al singolo comune cosa ha deciso di fare. Anche per la carta di servizio ho capito che deve essere unica e integrata con il gestore. Allora, io non so qui precisamente se la comunità montana valga anche dato, cioè faccia l'approvazione del PEF, ma diciamo che siamo in questa casistica. Il comune è gestore in questo caso, quindi è gestore della parte tributaria e deve rispondere degli obblighi inerenti al tributo, come avevamo detto prima. Quindi riguardo alle risposte degli utenti, all'interfaccia, alla realizzazione e anche alla modifica del ruolo Tari qualora si debba modificare. Quindi non è che il comune deve fare la scelta del quadrante. Chi è il responsabile della redazione del PEF è anche il responsabile della scelta che farà interfacciandosi con il comune. Quindi sarà l'ente, quindi la comunità montana, che eventualmente si dovrà interfacciare col comune o sulla base del contratto in essere definire se è uno, due, tre o quattro, poi comunicarlo e quindi poi il comune si dovrà tra virgolette adeguare in questo caso. Il servizio dei raccolti ingombranti deve essere gratuito. Sì, l'abbiamo visto nella slide precedente, deve essere gratuito. L'unico deroga per cui è previsto un minimo di costo e per chi già ce l'ha a costo e comunque in presenza di un centro di raccolta. Allora, ce n'è uno. Buongiorno, Valentina Guelpa. Buongiorno, ma cosa succede se il gestore non rispetta gli standard previsti e le relative penali non sono state inserite nel relativo contratto del servizio poiché precedente? Allora, devo dire che sulle penali Arere è andata piuttosto delicata. infatti io non le ho accennate qui. Diciamo, qui prevede semplicemente per una non ottemperanza, per un biennio, quindi si attiva Arera rispetto alla possibilità di interloquide e poi dopo ovviamente Arera tutti quanti gli strumenti anche per arrivare alla sospensione diciamo in caso di grandi deitere, ma in questo momento non ha inserito grandi elementi. Il consiglio che io do è di integrare tutti quanti questi obblighi all'interno della contrattualistica anche con il gestore. Quindi se non è previsto quest'obbligo diciamo approfittando tra virgolette di Arera andarla a integrare e quindi prevedere anche che cosa accade nel caso in cui non ci sia un riscontro. Quello che è certo è che chi può richiedere, chi può chiedere conto della non ottemperanza di questi livelli è sicuramente il cittadino. Quindi noi ci dobbiamo aspettare dal primo gennaio del 23 se non vengono ottemperati gli elementi all'interno di questa delibera sicuramente il cittadino si può interfacciare direttamente o per il termine di Arera andando a segnalare una non ottemperanza del suo diritto e quindi poi cosa possa scatuire da questo questo poi lo andremo a vedere ma sicuramente ci può essere un elemento anche economico in tal senso. Allora, per quanto riguarda tutte le domande dell'armonizzazione tra le disposizioni regolamentari di norme di legge primarie speciali tributarie e le nuove prescrizioni Arera siamo in una fase di studio, analisi e nel webinar prossimo del 30 marzo speriamo di potervi dare diciamo delle indicazioni delle risposte quello che è certo è che comunque l'autorità come aveva anche anticipato Francesco nel webinar del 22 aprile e scusate del 22 febbraio ha una serie di funzioni che le sono state attribuite dalla norma la cosa più difficile quindi a nostro avviso e anche come voi ci state facendo presente è armonizzare con quello che finora c'è stato a livello di normativa nazionale e anche regolamentare con le nuove prescrizioni Arera è chiaro che quest'ultimo vanno intese come dei livelli minimi quindi qualora il comune abbia diciamo un che ne so ad esempio dei termini di rateizzazione maggiore rispetto a quella Arera quelle Arera vanno ritenute integrate in quelle massime previste dai comuni io non so se Francesco vuole rispondere a qualche domanda sì ho un'altra allora l'ufficio tributario come fa a rispettare i termini di chiusura del ticket nel caso di reclamo dovuto a servizi dati in appalto a altro soggetto allora questo forse non sono stato felice nella mia esposizione comunque il i termini e quindi il rispetto dei parametri di performance sono a carico del gestore responsabile di quel servizio quindi nel caso in cui l'ufficio tributario anche se avesse come onere così come ce l'ha per punto di vista di Arera del call center e dei reclami o di qualsiasi chiusura del ticket il soggetto responsabile di ottemperare per tempo è comunque il gestore che sia per esempio della raccolta dello spazzamento o di quel che sia l'importante è che l'ufficio tributario nel caso in cui abbia l'onere del del contatto con l'utenza mandi come abbiamo visto al gestore entro cinque giorni la richiesta dopodiché diventa responsabilità del gestore rispondere per tempo all'utente questo è importante come coordinare il termine di attivazione del servizio il termine di presentazione della dichiarazione che decorre dalla data di possesso dell'unità immobiliare allora qui non siamo andati nel dettaglio questo lo vedete con Valte Giacetti comunque è prevista sia la tempistica da parte dell'utente va da memoria 60 giorni dal possesso dell'unità per poter fare la richiesta e la richiesta a valore retroattivo quindi poi dopo va ovviamente indietro da quando c'è stato il possesso la consegna delle attrezzature ovviamente va dall'attivazione del servizio stesso quindi l'importante è che l'utente ovviamente faccia richiesta di adesione al servizio il più presto possibile per poter andare a iniziare al meglio il servizio abbiamo finito il tempo allora ricordo a tutti che comunque noi ci stiamo attrezzando per oltre fare altri webinar anche per porre un set di modulistica che potrà essere replicata da tutti i comuni quanto antiterritorialmente competenti che li aiuterà diciamo nelle operazioni più basiche la richiesta di attivazione cessazione del servizio tutti gli altri modulisti che ha ipotizzato Francesco nelle slide che verranno messe a disposizione di tutti a partire da oggi pomeriggio stiamo pensando anche anzi faremo un webinar sul regolamento e quindi sulle modifiche che dovranno essere apportate al regolamento il prossimo 30 marzo a cura del dottor Pasquale Mirto e faremo insomma entro giugno ci siamo posti l'obiettivo di fornire a tutti oltre questa modulistica tutte le indicazioni per porre in essere tutti quei procedimenti tutti quei cambiamenti burocratici e amministrativi che vanno implementati ai comuni al fine di rispettare a partire dal primo gennaio del 2023 tutte le prescrizioni dell'autorità quindi insomma il nostro sarà un supporto costante anche fattivo a tutte le vostre attività insomma cercheremo di portarvi per mano fin dove possiamo potremmo in questa complessa attività che comunque prevede uno stravolgimento insomma sia dell'organizzazione interna dei comuni anche l'adozione di software gestionali che insomma dovranno misurare le performance allora io ringrazio Francesco che è stato chiaro come sempre nell'esposizione ricordo che le sue slide e la sua registrazione saranno disponibili dal pomeriggio o anche da o forse anche da domani mattina e ringrazio i colleghi della formazione che sempre ci seguono e auguro a tutti un buon lavoro a presto grazie a tutti arrivederci